A San Lazzaro di Savena, Bologna, presso la sede di Conserve Italia, Conf Cooperative Emilia-Romagna ha organizzato un incontro istituzionale con il ministro delle politiche agricole, onorevole Stefano Patuanelli. A fare gli onori di casa, il presidente di Conserve Italia e Conf Cooperative, Maurizio Gardini, che ha accolto il ministro sottolineando l'importanza di questo confronto, davanti a una platea di oltre 50 cooperatori emiliano-romagnoli, in rappresentanza delle principali filiere produttive a livello nazionale, ortofrutta, vitivinicolo, lattiero caseario, carne, bieticolo saccarifero. Diverse le richieste delle cooperative, come la nuova PAC, il fatto che la gestione dei fondi europei rimanga alle regioni e che i costi della transizione ecologica non siano scaricati sulle imprese, che vanno accompagnate con risorse e nuove norme. È evidente che gli eventi atmosferici e le calamità aumentano nella loro frequenza e nella loro portata, danneggiando molto frequentemente i raccolti. Io credo che da un lato vada stimolata l'assicurazione per le imprese, che ancora ha una percentuale troppo bassa, soprattutto in alcune zone del Paese. Lo potremmo fare anche grazie a un risultato importante che abbiamo ottenuto nella contrattazione in Europa per la nuova PAC, portando dall'1 al 3% il prelievo sul primo pilastro, proprio per la gestione del rischio. Dopodiché dobbiamo pensare di passare a uno strumento che sia di sostegno al reddito complessivo, al reddito agrario, perché è evidente che nessun agricoltore coltiva per veder distrutto il proprio raccolto e per essere indenizzato per il danno che ha avuto. Bisogna dare garanzia di continuità di reddito agli agricoltori perché possano fare investimenti. Durante l'incontro sono intervenuti alcuni importanti cooperatori come Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo, Carlo Dalmonte, presidente di Caviro, Bruno Piraccini, presidente e amministratore delegato di Orgel e Daniele Ravaglia, direttore di Emilbanca e presidente Conf Cooperative Bologna. Altri significativi contributi sono stati portati da Carlo Piccinini, presidente Conf Cooperative Fedagri Pesche Emilia-Romagna e Francesco Milza, presidente Conf Cooperative Emilia-Romagna. Noi oggi abbiamo due temi molto importanti, il primo riguarda la crisi dell'ortofrutta nella regione Emilia-Romagna, flagellata dal maltempo che abbiamo avuto soprattutto inizio anno e poi la società estiva e anche tutte le patologie o gli insetti diciamo alieni che sono venuti su questo territorio, vedi la famosa cimice asiatica dovuto anche al cambio climatico. Inoltre siamo un pochino preoccupati della nuova politica agricola europea che volendo inserire delle idee sicuramente giuste riguardo rispetto ambientale, però riteniamo che andano fatte con prudenza perché dobbiamo lasciare i nostri ricoltori in mezzi tecnici per poter contrastare appunto queste nuove avversità. Oltretutto mi permetto di dire che rischiamo che se noi siamo troppo stretti su certe politiche, se questo non avviene anche negli altri paesi europei rischiamo semplicemente di demolire il nostro settore agroindustriale e poi mangiare comunque prodotti che hanno gli stessi antiparassitari, gli stessi prodotti tecnici che noi abbiamo eliminato. Il sistema agroindustriale e agroalimentare nella cooperazione ha un peso molto importante nella regione Emilia-Romagna ma anche all'interno della cooperazione, quindi diventa un asset strategico per la crescita e lo sviluppo, soprattutto in un momento come questo di rilancio, speriamo post-Covid. Abbiamo bisogno che i nostri marchi, che sono marchi di eccellenza, i nostri prodotti siano tutelati e supportati in tutte le sedi comunitarie e internazionali. Se produciamo eccellenze ma non le sappiamo tutelare diventa un problema perché non viene valorizzato appunto quel di più, quel valore aggiunto che i nostri prodotti hanno e questa deve essere una battaglia che su tutti i tavoli anche internazionali il paese Italia deve saper condurre. Aggregare, aggregare, aggregare. La nostra capacità e la nostra forza è quella di mettere insieme i produttori, di creare filiere corte, di creare filiere di eccellenza. Questa è la nostra missione e su questo vogliamo certamente andare avanti. Grazie.